Buongiorno italioti, veramente non ho parole, non solo al sud come dice qualcuno ci sono le truffe. Qua siamo nel nord sulla A8, benzina oltre i 2,7 euro sulla chiesto intervento della Guardia di Finanza. Prezzo più alto del 35% rispedia alla media nazionale. Ragazzi, 2,7, vi dico che io in Spagna ho fatto 1,3, rendetevi conto è più del doppio, più del doppio. Italioti, ma cosa aspettate a svegliarvi? Io non ho parole, non ho parole, ma le ha accisi Salvini non le doveva togliere?